Fermiamo due o tre cose che possono essere utili, perché questa esperienza è un'esperienza dura, io non credo che sia un'esperienza che ricorderemo con piacere, bisogna stare anche un po' attenti a non farne un'esperienza solo positiva, comunque da convertire positivamente, ci sono dei passaggi della vita che sono oscuri, brutti, faticosi e bisogna prenderli come tali, questo per me è abbastanza un passaggio di questo tipo, è vero che mentre resistiamo, mentre anche soffriamo, mentre cerchiamo di chiamare a raccolta tutte le energie che abbiamo, tutti i neuroni che abbiamo, è vero che per strada ci viene dato il privilegio di capire qualcosa che forse non avremmo capito, se pensiamo a questo tema qua della rivoluzione digitale, indubbiamente ci sono un paio di cose che tutti in questo momento stanno capendo. Una è che è caduta una sorta di barriera quasi di tipo sentimentale tra gli umani e il digitale, soprattutto negli ultimi tempi gli umani avevano questo molto sospetto, perfino un po' di risentimento, c'era quasi una maggioranza degli umani che usavano le tecnologie digitali ma con una certa amarezza e con molta, paura è troppo, però con molta attenzione, con molta cautela, cioè le usavano ma senza crederci ecco, le usavano perché erano comode ma sapendo tutte le volte che facevano qualcosa di cui non conoscevano veramente tutti i risvolti, cioè con molta inimicizia diciamo. E questi due mesi qui hanno creato una grande amicizia, sai come due nemici che poi li chiudi, cioè rimangono fermi in un treno nella campagna e cominciano a parlare. E credo che sia poco a poco caduta questa barriera proprio di risentimento o sospetto che c'era. Moltissimi umani hanno capito che invece il digitale era lì e in maniera abbastanza mite e neutrale gli concedeva cose che sarebbero state impossibili. E allora ha cominciato a usarlo un po' diciamo con un animo più sgombro, con una mente più tranquilla e si è formato credo un rapporto tra proprio tra i device digitali e noi più giusto, non dico migliore o peggiore, però è più equilibrato ecco. Abbiamo fatto fuori, abbiamo spurgato tutta una serie di timori che forse erano eccessivi o di sospetto di base e quindi il mondo che verrà sarà un mondo in cui noi adotteremo per così dire il mondo da noi inventato, cioè il mondo digitale con un animo più sereno, ecco, più amichevole. Questo ci porterà sicuramente a usarlo meglio, anche a combattere i suoi lati pericolosi o comunque scuri, combattere nel senso di migliorarli come ad esempio fate voi, però ecco conta molto lo stato d'animo proprio di base, no? Quello da cui parti e questo scrollone che è stato dato alla nostra esistenza penso che questo lo otterrà. Quindi da questo punto di vista ci renderà molto più adatti e molto più bravi ad adottare quello che abbiamo inventato poi e usare nel modo migliore quello che abbiamo inventato, cioè questo mondo digitale. Un'altra cosa che chiunque può notare in questi giorni è come fosse sbagliato il nostro bilanciamento prima rispetto al problema la vita che passa dai device e la vita che poi tra virgolette è quella reale. Cioè c'era questa cosa prima noi ci permettevamo di dire frasi come ormai la nostra esperienza passa tutta dai device digitali, ormai i nostri ragazzi comunicano solo più attraverso i telefonini, ormai la nostra percezione del mondo, ormai siamo sempre lì, passiamo tutto il tempo con la testa lì eccetera. Poi ci hanno chiuso in casa e ci siamo accorti di quante cose invece facevamo con il nostro corpo, con la nostra voce vera, muovendoci, spostandoci, quanti posti frequentavamo, quante volte toccavamo qualcuno, quante volte venivamo toccati da qualcuno. Ed improvviso queste frasi ovviamente sono suonate ridicole, perché adesso che veramente diciamo che la parte fisica della nostra vita è ridotta al lumicino, adesso lo capiamo cos'è passare tutto attraverso i device, se non era quello che facevamo prima. E da qui si può capire anche appunto un certo nostro istintivo esagerare rischi incognite di quel mondo lì. Adesso è come se ogni giorno ci ricordassimo uno strato in più ogni giorno di quanto in realtà con l'avvento della rivoluzione digitale noi sempre abbiamo conservato, conservavamo prima una ricchissima presenza fisica nel nostro mondo, aveva un ruolo ancora enorme. E quindi ci verrà più facile immaginare quello che veramente è il punto che dobbiamo trovare, cioè un bilanciamento fra il nostro usare la tecnica digitale, la tecnologia digitale e il nostro continuare a essere uomini, continuare a essere umani. E questo è il punto del domani, questo, perché in quel bilanciamento lì che non ci riesce naturale, cioè facciamo fatica perché abbiamo da imparare lentamente tutta questa rivoluzione digitale, in quel bilanciamento lì quando a poco a poco si allestirà il mondo nuovo, quello uscito dal momento proprio grosso dell'emergenza ma che sarà differente, lì di nuovo dovremmo trovare come fosse una tacca giusta nel nostro bilanciamento. E qua il rischio, ma molto fra virgolette, è che ci innamoriamo perfino troppo di tutto questo, cioè di... adesso che vediamo che poi tutto sommato non è male, faccio un piccolo esempio semiprivato, dovendo lavorare per la mia scuola, in questi giorni ovviamente ci sono tutte queste riunioni che facciamo come tutti voi e le facciamo in questo modo qua. Insomma stai cominciando a passare l'idea che non sono niente male, cioè durano meno, sono più razionali, la gente deve intervenire entro un certo limite di tempo, quindi sintetizza il proprio pensiero, siamo tutti più efficienti, è come dire, siamo tutti più disegnati bene, ecco, e ci resta in più poi un'ora in più perché non ci siamo spostati da casa, parcheggiato, preso il pulmo, ci resta del tempo in più con cui fare cose tipo stare con i figli finalmente o vedere cose o leggere o fare l'orto, queste palle qua. Beh, questa roba qua rischia di passare molto nelle nostre abitudini e questo boh, non lo so, ecco, bisogna vedere come girerà, però il rischio, diciamo che adesso ci sarà una sorta di rischio opposto, cioè di pensare che in realtà è molto meglio fare così che no, perché puoi spostarsi e andare da Milano a Torino per fare uno, per parlare con qualcuno vedendolo quando si può. Boh, lì sarà molto bello, sarà molto interessante capire cosa faremo, però il punto è affascinante, cioè veramente è il bilanciamento che gli umani decideranno di dare tra il loro fisicamente esserci e il loro esserci online o attraverso i device digitali, che come voi ben sapete non è meno reale. Il problema, l'affascinante problema degli umani è di gestire una realtà, come ho cercato di spiegare nel mio libro, una realtà a due forze motrici, una più nel digitale e una più nel fisico, ma è sempre un sistema unico di realtà, non c'è una realtà virtuale, una reale, diciamo. Siamo reali ovunque e continuiamo a ruotare dentro tra sguardi veri, sguardi finti, foto, presenze, parole scritte, parole dette, parole ascoltate, cose toccate, cose raccontate. È fantastico, un sistema complesso di immensa ricchezza che fa di noi circolamente degli umani più svegli, che speriscono anche molte più cose. Resta il problema del bilanciamento. Diciamo che prima andavamo avanti tutti con le mani così, con i piedi, con molta paura. Adesso quando cominceremo ad allestire il mondo nuovo vediamo cosa succederà e speriamo di trovare un bilanciamento più saggio di quello che avessimo in passato, più sereno, anche più allegro, più felice è una parola grossa, però magari allegro sì. Dopodiché ci sono crisi periodiche e in quelle crisi quello che noi dobbiamo far accadere è quella capacità di soffrire per rinnovare, di soffrire per ripartire da quello che è veramente vivo, non da quello che ci portiamo dietro un po' stancamente. Questa specie di rivoluzione sofferta, un po' implosa che stiamo vivendo, ci dà l'opportunità di questa sorta di scossa sismica, diciamo. Probabilmente il modo migliore per farla passare è accettarla, cioè prenderla, adottarla e usarla come un principio dinamico, essere disposti a sofferenza e essere disposti a perdere dei pezzi di mondo. Abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza, cioè cosa portare al di là di questo guado, ma pensare che vogliamo semplicemente che tutto questo stia là, nello stesso modo, questo è sciocco, cioè approfittiamo della tempesta, approfittiamo, approfittiamo, approfittiamo e cerchiamo di andare oltre, di ridisegnare per farle essere più forti, ridisegnare le cose che ci stanno a cuore. Ma d'altra parte pensare semplicemente di ritrovarle alla fine di questo percorso così come erano, o ripristinarle, mettere tutte su pellette di dove erano, su mobili, è sciocco, perché vuol dire perdere un'enorme opportunità.